È unanime il cordoglio di tutte le società dilettantistiche e giovanili di calcio della provincia di Arezzo per la morte improvvisa di Mussin Ussama, il giocatore di 16 anni che da circa un anno militava nella squadra Juniors dell'Arno Castiglioni Laterina. Il giovane di origini marocchine, ma residente all'Evanella di Montevarchi, è morto giovedì scorso in seguito ad un malore che ha avuto mentre si stava allenando assieme ai suoi compagni nel campo sportivo di Laterina. La disperata corsa in ospedale purtroppo non è servita. Il campo era dotato di defibrillatore, il ragazzo aveva il regolare certificato medico, fanno sapere dalla società. Rimane quindi solo il grande dolore per la perdita di una giovane vita. Messaggi di cordoglio sono arrivati sia dall'Atletico Levan e Leona, dove militava fino ad un anno fa il 16enne, e dall'attuale club Larno Laterina Castiglioni. Non ci sono parole, scrivono, adatte a descrivere il nostro dolore in questo momento. Siamo e saremo vicini alla famiglia del nostro giocatore. Ringraziamo la federazione e le tante società che in questo momento hanno espresso la loro vicinanza a noi e alla famiglia. Domenica 20 novembre, in segno di lutto, non verrà disputata la partita di campionato fra le prime squadre Atletico Levan e Leona e Arno Castiglioni Laterina.